Fischia Jolie ragazzi, fischia Jolie, tutto l'Ariston che fischia sto ragazzo, ma che va fatto? Ha fatto una canzone bellissima, orecchiabilissima, ora perché è dialetto napoletano ce l'avete contro i napoletani? Non deve vincere un napoletano? Ma voi la mente di musica non capite un cazzo, non capite un cazzo di musica, sia il pubblico, ce l'ho con voi, che se l'avete messo col culo solo a quella protea, e non solo, anche ad altra gente che penso, dice, è più bella quella, più bello quell'altra, io apprezzo comunque il vostro parere, cioè non è che sto giudicando quello che voi pensate, però perché ha canisse questo ragazzo? Deve essere la vincitrice, assolutamente, la vincitrice, sarà il tormentone dell'estate, poi ne ripalleremo, spero veramente che vincere a sto ragazzo che se lo merita.